e che sicuramente prima o poi sarebbe arrivato lo scudetto e che lei sicuramente sarebbe rimasto a lungo su questa macchina. L'altra sera dopo la partita contro la Santoria ha detto che non vorrei essere un peso e che a fine stagione si vedrà. È cambiato qualcosa tra lelle o la squadra o la società o la piazza? Non è una contraddizione di essere ambizioso e di vincere di aver detto quello che ho detto dopo la partita contro la Santoria. Io volevo rassicurare e tranquillizzare questa piazza e la gente da qui. Non sarò mai un peso perché come ho detto ho imparato a innamorarmi di questa squadra, di questa Roma. Il giorno dove sentirò che non sono più utile o non sono più una plusvalenza al club per ottenere vittorie, risultati, trofei che sono venuto per questo, al secondo dopo mi farò da parte. Ma finché i giocatori mi seguono, finché le mie parole sono ascoltate da loro, io mi devo di assecondare il mio sogno di vincere qui perché sono venuto per questa cosa e io voglio vincere qui dopo aver sognato di farlo. Con questa squadra, in questa piazza che forse è la più difficile del mondo, io penso che è possibile ancora vincere. E' per questo che ho parlato di questa cosa, io sono inflessibile su tutte le cose, ma soprattutto su me stesso. E questa è la cosa importante per il futuro, che è la fine della stagione. Dopo sui conti, ogni anno a fine anno facciamo i conti. E allora faremo i conti a fine stagione, come di solito. Grazie.